La protezione civile va anche proprio per gestire emergenze varie. La protezione civile è scritta proprio la sede del Muse e quindi questo vuol dire che sono temi che sono sentiti e che sono molto particolari perché abbiamo già fatto quasi 40 esercitazioni su tutto il territorio. Vuol dire che sono quasi un'esercitazione a settimana e non solo le esercitazioni. Sì, grazie. Lasciatemi portare prima un po' di saluti. È importante ricordare sempre le presenze e ringrazio ovviamente. Che vedo qui davanti a me professionisti importanti. Io mi stupisco sempre e mi stupirò sempre di quanto è articolato questo mondo della protezione civile e di quanto ci... Le autorità presenti che già sono state citate e credo che questa iniziativa, che se non erro, ingegner Fai, ci siamo al quinto barra sesto anno di questa settimana della protezione civile. Oltretutto quest'anno alla quale si unisce la giornata della protezione civile e diciamo anno dopo anno sta... E anche con le altre regioni e con il mondo della protezione civile. Quindi la parte mia, credo di portarvi il ringraziamento di tutta. Di dare anche questo riconoscimento. È un momento di bilanci, quindi è un momento anche dove si vuole anche fare il punto della situazione. Siamo andati anche oltre i confini di stato. Però è una colonna mobile strutturata. Con la consulta del volontariato stiamo discutendo anche su come... Col spirito di sacrificio e devozione, assieme alle unioni, ai corpi dei vigili del fuoco volontario, sia all'interno del territorio provinciale che partecipando con la colonna mobile della provincia autonoma di Trento... Questo è qua rosso. Vai, schiaccia questo bussantino, questo qua, oppure puoi accendere la radio qua. Questa qui, ok? Ecco, ci dati di questa. Buone i piedi, grazie ai piedini, brava, altri piedini. Grazie a tutti. Buone i piedi, grazie a tutti. Allora, noi sul territorio abbiamo distribuito più di 200 trappole per il posto e diffonde tantissime uova, che poi schiuderanno a grigio marrone, diabete rosso, per il posto, per il posto. Le stadi vanno sul campo e vanno a verificare. Questa trappola viene atti. Buone i piedi, grazie a tutti. Buone i piedi, grazie a tutti. Buone i piedi, grazie a tutti. Qualcosa? Buone i piedi, grazie a tutti.